Lo sentite questo odore? È la morte. Che razza di posto è questo? Qui c'è quello che resta dei genitori di Kong. Ho fotografato così tante fosse comuni da riuscire a riconoscerne una. Il luogo dell'incidente è dall'altra parte della valle. La attraverseremo e raggiungeremo la cima più alta a ovest. Ah? Questo posto è una zona nonno, signore. Dobbiamo andare a nord dell'isola, è subito. Se lei vuole, inizi ad andare, amico mio. Ma andrà da solo. Non ho intenzione di lasciare qui Jack. Allora, chi sta con me? Possiamo farcela. Certo che ce la faremo. Ora massima attenzione e occhi bene aperti. Vivo qui da 28 anni, che ne posso sapere?